Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, l'apertura la dedichiamo ai problemi legati alla Camera di Commercio, c'è un punto interrogativo sull'accorpamento sulla divisione, un accorpamento che fu volontario e la divisione che viene chiesta da più parti. Vediamo di fare il punto della situazione in questo ulteriore servizio. Inaugurare la stagione del dialogo, questo è l'intervento del Presidente della Conf Commercio Elio Piscitello che prende spunto da quanto ha in cantiere l'associazione territorio protagonista per provare a ricondurre tutto nell'albio costruttivo. È inutile lo scontro perenne attorno alla Camera di Commercio, dice Piscitello, la nostra organizzazione in passato ha preso posizione attaccando il Presidente della Camcom Agen su alcune scelte che svantaggiavano Siracusa. Ma adesso, insieme con la consulta dell'associazione di categoria, presenta Pippo Giannoto, è stato comunicato ad Agen alcune scelte sul piano strategico, come il Centro Congressi Agen ha detto di andare avanti su questi piani strategici individuati dalla Camera di Commercio di Siracusa. La Conf Commercio parla di indicazioni rese per la scelta della sede del Centro Congressi, tutti d'accordo nel dire che occorre ridare valore ad alcuni immobili di prestigio in Ortigia o puntare tutto su un'area strategica, come quella di Pantanelli. Sul delegato della consulta è stato riferito ad Agen, che ha rilanciato la questione sostenendo di inviargli una proposta, a che debba essere affidato il progetto esecutivo e sulla valutazione economica, non spetta al territorio fare le scelte, ma alla Camera di Commercio del Sud-Est. Sarebbe una cosa positiva affidare il progetto agli ordini professionali, ma se fosse più conveniente rivolgersi a Union Camere va bene lo stesso. Altro argomento in discussione è la sede di Via Sele. Su delega della consulta se ne sta occupando Paolo Lentini. L'obiettivo è quello di redigere un progetto per varare un unico ente di alta formazione. Ragusa avrà il corso per l'alta cucina e Siracusa un corso di formazione in scienze turistico alberghiere. Il tutto legato al superiore interesse per lo sviluppo del turismo. Per il Presidente di ConfCommercio corre fare in fretta per prendere finanziamenti relativa alla risultazione dell'immobile e avviare una collaborazione tra le due province all'interno della vasta area. Sulla destinazione d'uso di una parte della sede storica della Camera di Commercio, il Presidente della ConfCommercio ha parlato con il Presidente della Camera di Commercio che è appunto Agen. Con me c'era anche Maria Rita Sgarlata che ha illustrato la sua idea di trasformare il primo piano in museo dell'Inda in cui esporre costumi e parti scenografiche. Agen è stato entusiasta del progetto che si è al momento arrestato a causa della scomparsa di Maria Rita Sgarlata. Se la Camera di Commercio offrisse questi locali alla città incomodato d'uso ben venga perché rilancierebbe quella parte di città. Sulla vicenda accorpamento, ConfCommercio sostiene debba essere attesa la pronuncia della Corte Costituzionale o una legge di modifica della riforma per iniziare il processo inverso dell'accorpamento. Nel frattempo bisogna concentrarsi ad esempio sull'equa ripartizione della divisione delle risorse fra i tre enti. L'area vasta o cresce, tutta insieme o il progetto fallisce. Il Presidente della Commissione Antimafia Lars Claudio Fava ha presentato una interpellanza in cui chiede cosa intenda fare il Governo regionale sulla posizione della Presidente dell'IAS di Priolo. Un'interpellanza parlamentare per chiedere al Governo della Regione se non rilevi l'opportunità di procedere al revoca della nomina della dottoressa Brandara quale Presidente della società IAS. L'atto parlamentare è stato trasmesso dal deputato regionale Claudio Fava all'assessore per l'economia Gaetano Armao e a quello per l'energia Alberto Piero Bon. Maria Grazia Brandara, attuale sindaco di Naro in provincia di Grigento e già commissario straordinario dell'IRSAP il 26 ottobre 2017, è stata nominata Presidente del CDA della Società Industria Acqua Siracusana che gestisce il depuratore biologico di Priolo, il cui socio pubblico di maggioranza è l'ex Consorzio Asi di Siracusa. Risulta indagata in una delle tranche dell'inchiesta condotta dalla Procura di Caltanissetta relativamente al cosiddetto sistema montante. La permanenza di Maria Grazia Brandara alla Presidenza della società IAS è un fatto politicamente inaccettabile, ha detto Fava, visto che il suo pesante coinvolgimento nell'indagine sul sistema montante è certo. L'inchiesta che la vede imputata di associazione delinquere assieme all'ex Presidente di Confindustria Sicilia è il suo recente rinvio a giudizio a Barcellona Pozzo di Gotto per reati ambientali. Nella sua interpellanza si legge tra l'altro l'interesse di montante in questo settore, ha ricordato il deputato regionale, risulta l'acquisito nella sentenza di condanna emessa dal gruppo di Caltanissetta che dedica un ampio approfondimento alla vicenda con un titolo emblematico, l'ingerenza di montante nell'IAS SPA. Le motivazioni della sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nel maggio dello scorso anno nei confronti di montante e altri, si dà ampio risalto all'interesse nutrito da montante nei confronti della società che opera a Priolo, segnatamente al capitolo 10 che consta di due paragrafi dedicati all'IAS, dei quali il titolo di uno è alquanto emblematico, l'ingerenza di montante nell'IAS e in generale nelle sedi del potere. Nel chiedere la revoca dell'incarico di Presidente dell'IAS Claudio Fava, che tiene a precisare di non volere intervenire in qualità di Presidente della Commissione Antimafia dell'Ars, prosegue sostenendo che in questi anni è emerso in modo evidente che alla brandare sia stato il braccio operativo di montante in un settore delicatissimo come quello della depurazione delle acque, fatto ancora più inquietante proprio alla luce del recente rinvio a giudizio di Barcellona. Il mandato della Presidente dell'IAS scade contestualmente all'approvazione del bilancio della società che potrebbe avvenire al massimo dentro il mese di giugno. Il mandato di Maria Grazia Brandara, la presenza dell'IAS va di pari passo con il Consiglio d'Amministrazione e scade contestualmente all'approvazione del bilancio della società. Nei termini di legge c'è tempo fino al 30 aprile per esitare lo strumento finanziario del 2019 con la possibilità di fare slittare i termini persino al 30 giugno qualora il rinvio sia motivato. Il bilancio sarà comunque pronto entro il 28 febbraio e di conseguenza sarà disponibile per il CDA fra un mese e mezzo al massimo. Da più parti però dopo le inchieste giudiziarie e dopo l'interpellanza parlamentare del Presidente della Commissione Antimafia dell'ARS Claudio Fava che ha chiesto al Governo della Regione se non rilevi l'opportunità di procedere all'arrevoca della nomina viene auspicato che la Presidente possa fare un passo indietro. Ribadisco la mia posizione sulla vicenda, dice il parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Pasqua ritengo la posizione della Brandara nel contesto dell'IAS sia inopportuna. Deve a mio giudizio lasciare l'incarico per liberare l'IAS da sospetti a dietrologie siccome il suo mandato è ormai in scadenza la invito a fare un passo indietro. Anche per il Sindaco di Priolo Vippo Gianni la situazione destra qualche imbarazzo. Credo che dopo l'atto parlamentare di Fava gli assessori interpellati debbano convocare la Presidente Brandara per chiarire ogni aspetto e di conseguenza decidere sul da farsi. Il segretario della Commissione di Attività Produttive dell'ARS Giovanni Cafeo sostiene che non sia volontà del Governo mantenere la Presidente Brandara al vertice dell'IAS anche se fino a questo momento non è stato fatto alcun passo ufficiale. Per quanto lo riguarda però, come ha già fatto fino ad oggi, continuerà a seguire le vicende dell'IAS. Adesso parliamo di un'operazione che è stata portata a termine dai carabinieri di Roma. È una persona che ha messo a fuoco un giro di truffe e anche scambio di identità per acquisire denaro. Oltre 500 mila euro in tre mesi da parte di questa associazione di cui fa parte o farebbe parte un lentinese che è stato arrestato questa mattina. C'è anche un lentinese di 45 anni coinvolto nella maxi-inchiesta della Procura di Roma per la quale i carabinieri della Compagnia di Casilina hanno fatto scattare gli arresti nelle province di Roma, Napoli, Cagliari e appunto Siracusa. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone le misure cautelarie a carico di 14 indagate, 6 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e come il lentinese. Ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata la truffa in danno dello Stato, ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti falsi e sostituzione di persona. Le indagini svolte dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Casilina hanno avuto origine da un arresto in flagranza operato dalla stazione Roma Quadraro quando un uomo si era presentato all'ufficio postale del quartiere munito di documenti falsi e aveva cercato di incassare titoli di credito poi rivelatosi oggetto di clonazione. Nel corso delle indagini e degli approfondimenti supportate le attività tecniche, quindi intercettazioni telefoniche e ambientali, i carabinieri sono riusciti a individuare un sodelizio costituito principalmente da soggetti delle province di Roma e di Napoli specializzato nel procacciarsi falsi documenti di identità, cosiddetti santini, allo scopo di incassare titoli di credito clonati e o oggetto di furto. In diversi casi sono stati accertati incassi i titoli di credito che gli appartenenti al sodelizio avevano ottenuto presentandosi in uffici postali in prima persona, sostituendosi di fatto ai beneficiari grazie all'utilizzo di falsi documenti che attestavano le generalità di questi ultimi. In altri casi, quando i destinatari dei titoli di credito per caratteristiche di sesso ed età non potevano essere sostituiti dagli appartenenti al gruppo, i sodali si avvalevano di terze persone che venivano ingaggiate di volta in volta per interpretare il ruolo di beneficiario. Queste ultime, dopo essere state munite di falsi documenti, si presentavano gli spututi di credito e gli uffici postali dove, fingendo di essere beneficiari dei titoli, ponevano in essere le operazioni necessarie per il compimento delle transazioni. In molti casi i titoli di credito che venivano presentati all'incasso erano rimborsi IRPEF originali oggetto di furto mai pervenuti agli ignari destinatari ai quali la notizia di quanto accaduto a loro insaputa è stata fornita proprio dai carabinieri. Dalle indagini emerse la capacità del sodalizio di monitorare sul territorio l'emissione di titoli di credito del valore nominare superiore a 100.000 euro definiti dormienti perché emessi da diverso tempo e non incassati dagli eventi di diritto che detenevano il documento originale. I movimenti di denaro più consistenti sono stati a loro volta indirizzati in più tranche a diversi conti correnti e carte ricaricabili realmente intestati a soggetti compiacenti o a persone inesistenti per i quali erano stati creati i falsi documenti. Gli accertamenti hanno inoltre consentito di verificare che i falsi documenti e i titoli di credito di provenienza illecita erano stati procurati dalla componente campana del sodalizio mentre le operazioni di incasso avvenivano soprattutto con metodi già descritti dalla componente romana prevalentemente nel cosiddetto postazione individuata nel Lazio, in Sicilia e a Lentini. Nel corso del breve periodo di attività investigativa, compreso in tre mesi di monitoraggio, sono stati presentati all'incasso titoli per oltre 500.000 euro. Esercizio provvisorio, strettissimi margini di manovra. Il parlamentare Caffeo dice che occorre rimpinguare i capitoli zerati ad agosto ma non tutti, solo teatri e parchi. Il vero confronto sarà in sede di approvazione del bilancio. L'ambito di intervento sulle somme previste durante l'esercizio provvisorio della regione siciliana è strettissimo e legato solo al rimpinguamento di alcuni capitoli a zerati ad agosto in attesa della parifica per consentire il pagamento degli stipendi rimasti scoperti ma l'attenzione per il nostro territorio sarà altissima in sede di approvazione del bilancio regionale. Lo ha dichiarato l'onorevole Giovanni Caffeo, segretario della terza commissione ARS, attività produttive. In questi giorni c'è stata come una corsa per rendere noto l'elenco di tutta una serie di somme destinate a teatri e fondazioni, tra cui l'inda che all'apparenza sembravano sproporzionate e ingiuste. Bisogna però tener conto che tali somme di fatto sono quelle tagliate ad agosto e rimpinguate per garantire i pagamenti degli stipendi. Gli stanziamenti reali saranno nel prossimo bilancio. Rimangono a zerati, come evidenziato da una nota del dirigente generale del Dipartimento del Lavoro, il capitolo Arma dei Carabinieri pari a 300.000 euro di spettanze retrate, quello dedicato ai PIP ex Emergenza Palermo oltre 460.000 euro, quello degli ASU per quasi 800.000 euro, quello per il reddito minimo di inserimento di 870.000 euro e quello per la fuoriuscita a cantieri di servizi RMI per circa 65.000 euro. Interventi specificati nel dettaglio alla quinta commissione di quali si dovrà prendere atto in questo esercizio provvisorio. In sostanza, la fase di esercizio provvisorio servirà esclusivamente a sanare l'ordinaria amministrazione, ha detto Cafeo, mentre al momento di discutere il bilancio della Regione nel corso dei lavori d'aula, oltre a chiedere conto al Governo di come intende affrontare i disagi creati a migliaia di persone per le somme mancanti, come sempre saremo in prima linea per il giusto riconoscimento delle nostre eccellenze, a cominciare dall'Inda e dalle nostre emergenze. Mi riferisco ad esempio al Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Ad Augusta adesso dove prosegue lo sciopro della fame di Manuel Mangano, mentre il Comune annuncia una soluzione tampone per far arrivare l'acqua potabile nelle abitazioni del centro storico. Sentiamo tutto nel servizio. L'amministrazione comunale megarese si sta attivando per porre un'argine alla penuria d'acqua potabile nel centro storico di Augusta. Sarà attivata una nuova elettropompa nella condotta che collega due zone del centro storico. La carenza idrica, come noto, sta caratterizzando da mesi il centro storico di Augusta a seguito del divieto di utilizzo dell'acqua per la presenza di ammonio, come svelato dall'ASPA al termine delle analisi su alcuni campioni. L'assessore ai lavori pubblici, Roberta Suppo, ha spiegato che verrà montata un'elettropompa nella condotta di rinforzo che collega la zona della borgata con l'isola. Si stima che i due impianti, funzionando contemporaneamente, non andranno a soddisfare del tutto il fabbisogno idrico. Pertanto, fino all'inizio dei lavori di reincamiciatura, si avrà l'esigenza di continuare ad attingere dal pozzo dei giardini comunali. In merito alla qualità dell'acqua, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Augusta precisa che allo stato attuale dai prelievi effettuati nell'ultima settimana, si evince una costante diminuzione della torbidità dell'acqua erogata nella zona. Resta ancora in vigore l'ordinanza di non potabilità, per cui l'acqua non può essere ingerita né incorporata negli alimenti, ma può essere utilizzata per tutti gli altri usi igienici. Intanto prosegue lo sciopero della fame da parte di Manuele Mangano, il giovane augustano che intende andare avanti fino a quando non sarà risolto il problema in maniera definitiva. Eccoci alla seconda parte del telegiornale, parliamo di cronaca e andiamo a Pachino, dove una coppia di conviventi è stata arrestata dalla polizia per il possesso di 21 chili di marijuana. I poliziotti del commissariato di Pachino hanno arrestato Giuseppe Ferrara, 33 anni, pachinese, già nota alle forze di polizia, e Giorgina Zocco, anch'essa 33enne, residente a Pachino, sono stati trovati in possesso di 21 chili di marijuana. Gli agenti, transitando in piazza Vittorio e Manuele, hanno notato Ferrara che alla vista dei poliziotti è entrato rapidamente in un negozio, decidendo quindi di sottoporlo ad un controllo. A seguito di perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish. Gli operatori di polizia hanno esteso così il controllo all'autovettura di Ferrara, dove c'era un chilogrammo di marijuana occultata nei sedili posteriori. Successivamente, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo e della propria convivente, rinvenendo 20 chilogrammi di marijuana, suddivisi in quattro scatole di cartone nascoste all'interno del ripostiglio. I due conviventi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per le indagini preliminari, per l'udienza di convalida e per sottoporsi all'interrogatorio di garanzia. Sempre a proposito di droga, i poliziotti del commissarato di Augusta hanno arrestato Gino Amenta, 47 anni, lentinese. L'uomo è stato accompagnato dal carcere di Brucoli, deve scontare due anni, due mesi e 19 giorni in reclusione per reati connessi allo spaccio degli istituzioni facenti. Cambiamo argomento. Dopo 20 anni, il siracusano, salvo veneziano, torna al Grande Fratello VIP su Canale 5. Sentiamo. Sono trascorsi 20 anni esatti quando nella prima seguitissima edizione del Grande Fratello il siracusano pizzaiolo salvo veneziano faceva il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Ieri sera, nella prima puntata del Grande Fratello VIP in onda su Canale 5, edizione presentata quest'anno da Alfonso Signorini con il cantante Pupo e la sugarl Wanda Nara, veneziano ha fatto nuovamente il suo ingresso in casa. Sempre più biondo, sempre più giocherellone, se stesso dinanzi alle telecamere del gruppo Mediaset, salvo veneziano si è subito presentato spumeggiante e sorridente e ha interagito con Alfonso Signorini. Ha voluto ricordare subito il suo amico Pietro Taricone, scomparso qualche anno fa, anche lui protagonista del Grande Fratello nella prima edizione. Salvo veneziano infatti ha dedicato la nuova serie 2020 del Grande Fratello VIP proprio a Pietro Taricone. Dal 14 settembre 2000, la data di avvio della prima edizione del Grande Fratello condotto dalla presentatrice Daria Bignardi, sempre su Canale 5, allora quando veneziano divenne noto grazie alla sua spontaneità e alle tante gag che lo videro quasi inconsapevole protagonista di un format televisivo che è durato nel tempo. L'ex pizzaiolo siracusano è poi diventato a pieno titolo un VIP del DJ set. Tantissime serate come ospite d'onore presso locali privati e tante partecipazioni a trasmissioni televisive. Barbara D'Urso lo chiamava ripetutamente nelle sue trasmissioni come opinionista. In quell'edizione il super salvo siracusano si classificò al secondo posto dietro la vincitrice Cristina Plevani. Oggi veneziano ha 44 anni, è sposato da 20 anni con la siracusana Giussi Merendino, è padre di due figli e vive tra Milano, Roma e Siracusa ed è contitolare di ben 17 pizzerie e ristorante sparse in tutta Italia. Salvo veneziano sarà subito sottoposto al televoto per decidere se resterà fra i VIP del Grande Fratello. Decideranno i telespettatori in settimana se il suo appille sarà di gradimento dei telespettatori della rete ammiraglia di Mediaset. Resta comunque il fatto che Salvo veneziano da Siracusa è tornato nella casa del Grande Fratello. Siamo adesso allo sport, parliamo di calcio. La Sicola Leonzio presenta i suoi due primi colpi di mercato, in particolar modo il siracusano, tra virgolette, Catania che si presenta. Manuola Catania che si è presentato ai microfoni della società. Sentiamo. Giornata di duro lavoro per la Sicola Leonzio. Doppia seduta di allenamento per i bianconeri agli ordini di mister Giovanni Bucaro. Parte atletica e di potenziamento muscolare al mattino, mentre nel pomeriggio tecnica individuale. Partitella sul campo ridotto con pressing ripetuto, tanto in fase difensiva quanto in quella di transizione di possesso palla. Sul campo in erba sintetica di Melilli i bianconeri stanno preparando con rinnovato il match contro il Teramo. Formazione di grande qualità che naviga con tante certezze in zona playoff. La gara contro i biancorossi Teramani che avrà inizio alle 15.00 a Lentini sarà diretta da Francesco Carrione da Castellammare di Stabbia con assistenti Paolo Cubicciotti da Nichelino e Luca Di Costa da Novara. Al termine dell'allenamento di ieri pomeriggio a Melilli intervista di presentazione dei neoacquisti Emanuele Catania e Rosario Bucolo. Una bella sensazione, una bella esperienza perché comunque la Sicula è una società importante che in questi ultimi anni ha fatto cose importanti. Sappiamo che non è un momento facile però siamo qui per tirarci fuori da queste situazioni. Ho sempre quasi fatto questa categoria quindi la conosco bene, ho ancora entusiasmo, ho ancora voglia di giocare quindi sono qui per questo. Questo è l'elea Catania. Adesso siamo qui, sappiamo che comunque come ti dicevo prima sarà un girone di ritorno difficile perché il girone di ritorno in questa categoria è un altro campionato quindi dobbiamo cercare di fare gruppo e cercare di tirarsi fuori da questa situazione difficile. Secondo me dobbiamo resettare, il girone di andata è finito, non dobbiamo guardare niente, dobbiamo cercare di fare gruppo, di stare insieme e pensare partita dopo partita perché se cominciamo a vedere la classifica è lunga invece se iniziamo a pensare partita dopo partita sono convinto che ci possiamo tirare fuori. È una squadra forte questa, non ora, anche prima lo era quindi secondo me ce la può fare. La scelta della Sicula io ho parlato con il direttore già da un po' di tempo, erano interessati a me e io soprattutto vedo questo sulle scelte che faccio. Per il resto la classifica ancora non conta tanto, siamo lì, sappiamo che sarà dura però sono venuto con tanto entusiasmo e tanta forza. Io mi metto a disposizione del mister dei ragazzi, io conoscevo un po' di ragazzi, sono tutta brava gente, gente positiva, perciò sapevo dove venivo. Sicuramente dobbiamo migliorare qualcosa, siamo lì, sappiamo che dobbiamo dare tutto perché saranno partite difficili, ma siamo qua per questo. Sì, stiamo lavorando, sappiamo che domenica già si comincia forte, ci abbiamo un bel mese, ma ragioniamo partita dopo partita perché è fondamentale questo. Noi lavoriamo partita dopo partita e cerchiamo di portare più punti a casa. Continuiamo a parlare di calcio mercato in Serie C, le squadre del Girone C pronte a spendere tanti tanti soldi. Per la Sicula Leonzi arriverà Cortesi dal Cesena. In un momento di crisi economica e strutturale per il calcio di terza serie fa eccezione il Girone C. Ogni società vuole rimediare agli errori di mercato dell'estate, c'è l'interesse a centrare il proprio obiettivo stagionale a tutti i costi. I primi colpi dopo l'apertura di calcio mercato sono già centrati. Tanto le squadre di vertice quanto le formazioni che lotteranno per mantenere la categoria si sono a vario titolo rafforzate. In queste ultime ore il Bari del padrone Laurenti avanza verso Nicola Ninkovic, trequartista dell'Ascoli e verso il centrocampista dell'Empoli Karim Laribi. Si tratta di due colpi da 90 perché calciatore di categoria superiore e di grande qualità. Il Monopoli punta forte sul difensore Alessandro Minelli, ex Rende, calciatore di proprietà del Parma ma in questa stagione in forza al Trapani. Il Potenza a breve annuncerà Alessandro Gatto, attaccante in uscita al Bisceglie, è il portiere Borsellini proveniente dal Rende. Il Catanzaro di mister Grassadonia ha dato il via libera all'attaccante siciliano Francesco Nicastro che ha firmato per il Padova. Il Catania in serato ufficializzerà l'attaccante Alessio Curcio, 30 anni proveniente dal Vicenza. Francesco Lodi, capitano di Rosso Azzurri, ha sottoscritto ieri in tarda serato un nuovo contratto con la Triestina chiudendo di fatto il suo percorso professionale non senza uno strascico di veranose polemiche con la società del patron Pulvirenti. Il difensore Pinto dovrebbe restare finere c'era una trattativa con la regina che però ha ufficializzato per quel ruolo Daniele Liotti, ex Siracusa proveniente dalla cadetteria Sponda Pisa. In casa Avellino, rinnovato l'entusiasmo con la nuova proprietà, si punta all'attaccante Fedato del Gozzano e al difensore Francesco Bertolo, ex Siracusa. In questa stagione titolare inamovibile al Picerno. Cianci e Martignago sono in uscita dal Teramo, mentre la Casertana ha ufficializzato stamattina il portiere Cerofolini della Fiorentina che farà da secondo al titolare Diamante Crispino, ex Siracusa. Infine il Rieti sta per chiudere in queste ore con l'attaccante russo e il centrocampista Serena. Il Bilceglie invece vuole ridisegnare i ruoli degli esterni d'attacco e le trattative in fase conclusiva sono quelle di Francesco Risolo, del Catanzaro e Nicola Strambelli, svincolato dalla regina. Per la Sicula Leonzio sarà il giorno dell'annuncio ufficiale dell'attaccante esterno Matteo Cortesi che arriverà in presidio dal Cesena. Sempre vive le trattative portate avanti personalmente al presidente Leonardo per i difensori negro del Monza, Zullo, dell'Avellino e Bacchetti del Gubbio. La Sicula ha chiuso il girone d'andata con 38 reti subite, seconda peggiore difesa dopo quella del Rieti. I numeri dicono che il reparto difensivo deve essere rivoluzionato per puntare alla salvezza diretta. Ancora calcio ma andiamo in promozione dove continua a tenere testa la vicenda relativa alla convenzione dello stadio Nicola De Simone, una vicenda infinita. Non è stata ancora formalizzata in via definitiva la concessione dello stadio Nicola De Simone alla AS di Siracusa Calcio del patron Gaetano Cutrufo. Infatti l'unità organizzativa contratti del Comune di Siracusa pur avendo iniziato la fase istruttoria preliminare nel mese di novembre del 2019 alla data del 7 gennaio doveva ancora procedere alle verifiche dei requisiti previsti dall'articolo 80,5 del decreto legislativo numero 50 del 2016. Si tratta in sostanza delle norme sulla trasparenza amministrativa e sulla legislazione anticorruzione. Il Comune di Siracusa infatti non ha riscontrato l'attuale organigramma societario della AS di Siracusa Calcio restando fermo al precedente legale rappresentante ai dirigenti non più in funzione. Infatti la carica di presidente della società azzurra è ricoperta dall'attuale direttore generale Simona Marletta che riveste dunque le funzioni giuridico formali di amministratore unico della società. Non avendo formalizzato la stipula di un contratto di concessione dello stadio in forma pubblico amministrativa appare improbabile che nei prossimi giorni la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli possa riunirsi per deliberare l'agibilità del vecchio impianto di Piazza Leone Quella restituendolo alla fruizione degli sportivi non solo per le gare ufficiali della squadra azzurra ma anche per gli allenamenti quotidiani. La squadra di mister Marco Scifa tutt'oggi come per l'intero girone d'andata e per la prima giornata di ritorno nella gara contro i climiti solarino ha dovuto fare a meno del proprio pubblico giocando in parte in campo neutro a Palazzola Creide e poi a Siracusa a porte chiuse. Chiudiamo con una notizia di ciclismo. La nazionale maschile di ciclismo su pista è arrivata a Noto per il secondo raduno del 2020 in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Tre gli allenamenti previsti al velodromo di Noto, tutte e tre aperti al pubblico. Il primo è in programma sabato alle 14.30. Con questa notizia chiudiamo il telegiornale e vi lasciamo alle condizioni meteorologiche dopodiché un saluto e buon proseguimento di programma. Arrivederci. Amici Trevi Meteo benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà un debole sistema nuvoloso atlantico avvicinarsi alle nostre regioni centro-settentrionali in realtà con pochissimi effetti bene o male la pressione atmosferica sul Mediterraneo resta relativamente alta. Se controlliamo infatti la nuvolosità prevista sull'Italia notiamo che alcuni sistemi nuvolosi interessano parte del nostro paese le regioni settentrionali, il medio-alto terreno però davvero nubi di poco conto anche come precipitazioni ben poco da segnalare magari qualche goccionina di pioggia potrebbe interessare la Liguria centrale forse in parte anche le pianure tra il Piemonte allombardiamo a quattro goccioline e nulla di più per il resto è situazione tranquilla. Quindi ci attende un venerdì un pochino più nuvoloso diciamo tra Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e anche nel nord della Sardegna anche nelle regioni stentrionali transita qualche nuvola e questo magari favorerà un leggero dissolvimento delle nebbie nel resto del paese invece il sole è ancora protagonista e come temperature nelle aree con il sole anche clima relativamente mite con questo è tutto, per sapere poi cosa accadrà nei giorni successivi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.